Tocca ai revisori dei conti, fornire l'ultimo lascia passare per arrivare alla delibera sui riaccertamenti che potrebbe sbloccare il cerchio degli atti finanziari. Tutta la documentazione dei settori è stata trasmessa al collegio che ha richiesto solo un ultimo allegato già inoltrato. Il sindaco Lucio Greco e gli assessori non possono che sperare nel verdetto favorevole. La scorsa settimana è stato stilato un cronoprogramma con tutte le scadenze essenziali. Ieri si è tenuto un lungo incontro al quale hanno partecipato tutti gli assessori. Il sindaco Greco ha convocato il segretario generale Carolina Ferro e i dirigenti, compreso quello del settore bilancio. Sembrano possibilisti, ma saranno i revisori a pronunciarsi. La chiusura dei riaccertamenti, fase che si protrae da mesi, darebbe la spinta verso il rendiconto 2021 e la definizione del disavanzo effettivo. In questo modo verrebbero o meno altre possibili insidie, favorendo il traguardo finale delle misure correttive. I dirigenti e gli uffici municipali intanto cercano di portarsi avanti su un altro fronte ed analizzare con molta attenzione. In ogni settore si sta portando avanti l'attività di ricostruzione dei debiti fuori bilancio, così da favorirne la certificazione. Anche di questo si è discusso nel corso dell'incontro di ieri, con tanto di elenchi piuttosto dettagliati dei debiti. È un versante continuamente segnalato alla Corte dei Conti l'amministrazione comunale non ha troppe scelte. Dovrà farsi trovare pronta con gli atti finanziari e con i correttivi entro il 12 giugno. Il termine ulteriore non l'ha concesso solo la Corte dei Conti, pure l'assise civica attende al barco la giunta e con un eventuale nuovo sforamento dei tempi la ruota della sfiducia potrebbe riprendere a girare.